Un consiglio comunale straordinario per affrontare concretamente la problematica della carenza idrica nella città di Chieti. Questa è la richiesta dei consiglieri comunali di centrodestra che questa mattina in conferenza stampa hanno presentato le loro proposte. A sorpresa all'incontro ha partecipato anche il sindaco Diego Ferrara che ha ascoltato le istanze della minoranza. Inizio con una frase pesantissima, benvenuti a Kabul. Non abbiamo bisogno di autobotti perché l'acqua compriamo al supermercato per bere, qua si tratta di igiene. Oggi si pubblica un calendario per cui l'acqua si toglie alle 22, alle 19 a Chieti alta non c'è più l'acqua. Riceviamo la mentele continue di persone che dico appunto devono magari andare a lavorare con turni la notte e sono impossibilitati a provvedere alla propria igiene personale. Io credo che il sindaco Ferrara e la sua amministrazione debbano smettere con il torcicollismo e abbiamo prodotto e produrremo in conferenza stampa i documenti per cui tutta l'amministrazione allora votò il passaggio obbligato all'Ersi, quindi non c'è una responsabilità della precedente amministrazione, compreso l'attuale assessore Remondi, il presidente del consiglio Luigi Febo, ma c'è una mancanza di gestione e l'amministrazione Ferrara deve iniziare a gestire e governare la città perché per questo è stata eletta. Cosa che non sta facendo? La conferenza stampa di oggi che abbiamo concordato con tutti i consiglieri di opposizione servirà a produrre un documento con cui chiediamo un consiglio comunale straordinario in cui intervengano i vertici dell'ACA. Di fronte a problemi così grandi tutta l'amministrazione senza una divisione dovrebbe navigare verso un unico porto e il risultato che noi vorremmo ottenere è quello di essere ascoltati in primis dall'amministrazione ma anche dall'ACA perché un capoluogo di provincia non può subire vestazioni del genere perché siamo di fronte a una avversazione.